Salubrità, sicurezza e miglioramento della qualità della vita dei detenuti del San Giorgio. Questi i temi che sono stati affrontati nel corso di un incontro convocato dal prefetto di Lucca, Alessio Giuffrida, al quale hanno partecipato oltre al direttore della casa circondariale, al comandante della polizia penitenziaria, anche provincia e comune di Lucca. Oggetto della riunione è l'individuazione di risorse atte a migliorare gli ambienti nei quali i detenuti vivono, con l'intento di favorire dignitose condizioni di vivibilità all'interno di una struttura dove spesso si verificano casi di sovraffollamento. Nel corso dell'incontro è stato posto l'accento sulle condizioni dell'immobile demaniale, che necessita di interventi strutturali ma anche su tutte quelle iniziative progettuali volte a realizzare la funzione di rieducazione della pena che la Costituzione garantisce. Al centro dell'attenzione, la salute del detenuto e la cura attraverso una corretta diagnosi iniziale delle patologie, con particolare riguardo a quelle di natura psichiatrica e psicologica, che possono portare a gesti di autolesionismo. I rappresentanti degli enti locali si sono impegnati a portare avanti tutte le iniziative di formazione ed avviamento al lavoro, mentre i rappresentanti dell'azienda sanitaria locale di Lucca hanno assicurato che nella programmazione regionale un aspetto prioritario viene dato alla sanificazione degli ambienti detentivi, alla cura dei detenuti e alla formazione della polizia penitenziaria per gli interventi di primo soccorso. In questi termini sono stati raggiunti accordi per verificare la possibilità di miglioramenti della qualità dell'aria nelle celle destinate ai fumatori.